HCS proseguono le indagini della procura sui corsi fantasmi ed emergono ulteriori novità, spunta anche uno scambio di mail tra i soggetti interessati. Il sindaco Tidei commenta la sentenza del TAR sull'ingresso di Ato2 e va rivista l'interimpostazione di HCS che illegittimamente ha in carico il servizio idrico. Calcio a 5 serie C1, l'atletico di Fabrizio Nunzi cede 4 a 1 sul campo della Lazio e saluta anticipatamente la Coppa. Ben trovati dal Tg Alto Lazio, emergono ulteriori novità in merito al nuovo filone di indagini su HCS relativa ai cosiddetti corsi fantasma. Spunta infatti un altro importante documento ed uno scambio di mail tra i soggetti interessati per tutti i raguagli del nostro servizio. C'è un documento che avrebbe tradito la costruzione dei cosiddetti corsi fantasma ad HCS o più precisamente all'ex Truria Servizi. È questa la novità che emerge dall'indagine aperta dalla Procura della Repubblica su una vicenda che sembra tra quelle più inquietanti relativamente all'inchiesta sulla holding dei servizi. Il documento è già in mano agli inquirenti e sarebbe quello che, unito alla relazione del collegio del revisore dei conti, sarebbe alla base della stessa indagine. In sostanza, su quel documento si darebbe incarico alla società che avrebbe dovuto svolgere i corsi di formazione ed aggiornamento in una data antecedente alla creazione della stessa società, o meglio, al versamento del suo capitale sociale. Dunque, com'è stato possibile che si sia dato incarico ad una società che, di fatto, doveva ancora vedere la luce? Ma non sono solo questi gli indizi principali in mano alla magistratura inquirente. Oltre ai documenti dei revisori e dell'incarico alla società che avrebbe organizzato i corsi di formazione, scritto su carta intestata dell'allora Etruria Servizi, la Procura ha anche una serie di messaggi spediti via e-mail tra i soggetti che avrebbero messo in piedi questo giochetto. Ci sarebbe infatti una fitta corrispondenza tra questi attori che si sarebbe sviluppata tra la fine di maggio e l'inizio del mese successivo, in quanto in quei giorni era emerso che ci sarebbe stata un'ispezione a Etruria Servizi. Inizia così questa corrispondenza telematica, dove si danno precise indicazioni sulla documentazione necessaria da far visionare, in modo che il tutto appaia assolutamente regolare. Arrischia ancora lo stipendio dei dipendenti della holding. A quanto pare la situazione si sarebbe sbloccata oggi con gli stipendi che dovrebbero arrivare entro la giornata di domani. Ma i lavoratori vogliono vedere i soldi sui conti prima di esultare. Nei giorni scorsi infatti i due liquidatori della società, Enrico Moscati e Mauro Jovino, hanno fatto presente le difficoltà in cui incorre HCS. Il pagamento dello stipendio di ottobre previsto inizialmente entro il 12 del mese è strettamente legato all'ottenimento delle autorizzazioni preventive da parte del giudice fallimentare del Tribunale di Civitavecchia a seguito della presentazione della richiesta di concordato preventivo. HCS conferma però il pagamento entro i prossimi giorni e proprio i lavoratori come quelli di Città Pulita ricordano come lo stipendio di un operaio non arrivi alla terza settimana ormai. La prospettiva che per i mesi prossimi non ci siano stipendi o la tredicesima spiegano diventa drammatica per le nostre famiglie. Saremo costretti ad attuare atti di forza contro l'amministrazione comunale, scusandoci fin da ora con i cittadini per i possibili disagi che si potranno creare. Chi oggi parla di vendita totale di HCS contraddice gli intendimenti programmatici e tradisce il patto sottoscritto. Solo qualche mese fa eravamo in piazza per raccogliere le firme per impedire a Moscherini la vendita del 60%. Chiede che vengano rispettati i pati il vice sindaco Enrico Luciani ed il riferimento è al primo cittadino che nei giorni scorsi più volte ha parlato della vendita anche totale della società. Prima di parlare di vendita, ha aggiunto Luciani, abbiamo il dovere di provare a risanare, tagliando con l'accetta compensi e privilegi, ricontrattare le qualifiche, ribaltare a 180 gradi il rapporto dirigenti e lavoratori senza operare neanche un licenziamento. Il futuro del settore idrico locale è quello del passaggio in Ato 2, lo ha confermato il sindaco Pietro Tidei alla luce della sentenza del TAR del Lazio, sentenza che però rimette in discussione l'intero impianto di HCS. Lo sentiamo in questa intervista. Dopo la sentenza del TAR, qual è il futuro del settore idrico locale? Con questa sentenza si ristabilisce che deve il Comune consegnare a Dato 2 l'impianto idrico integrato, cioè il servizio idrico integrato, cioè le reti che adesso lui aveva trasferito a Vecchie Infrastrutture e il servizio che aveva trasferito ad HCS. Quindi niente di tutti e due questi, adesso il Comune dovrà trasferire a Dato 2 il tutto. Se il futuro è appunto riconsegnare, consegnare a Dato 2 tutto quanto il settore, questo complica però la vicenda che riguarda appunto HCS e oggi liquidazione. Non solo la complica, ma rende come si dice un caos incredibile, perché noi adesso dovremmo trasferire il servizio, però HCS che nel frattempo sta preparando il piano industriale, nel piano industriale c'era scritto, c'era dentro il servizio idrico. Adesso dovremmo togliere dal piano industriale il servizio idrico, ripresentare un piano industriale aggiornato, ma non sappiamo se questa sentenza, che non è ancora definitiva, se verrà impugnata o meno, e quindi non essendo una sentenza definitiva è subiudici. Il che significa che cosa? O la Regione Lazio interviene e interviene immediatamente, o viceversa, voglio dire, noi ci troviamo appesi ad un filo, non sapendo cosa fare, in attesa di una sentenza definitiva. Che cosa faremo? Adesso parleremo ovviamente prima con Lato 2, poi parleremo con la Regione Lazio per sapere che cosa vuol fare, ma la Regione Lazio non c'è più, non c'è e così via. Aspetteremo, pazientemente, che trascorrano questi tre mesi, aspettando che ci sia, quantomeno sperando che ci sia, una Regione più attenta a questi problemi, perché se la Regione avesse risposto, probabilmente in questi casini non ci saremmo stati. La Regione non ha risposto e noi adesso ci adegueremo fra 100 piano A e piano B. Il piano A è quello col servizio integrato, piano B senza servizio integrato. Il problema vero è un altro, è che 120 giorni scadono e quando scadono i 120 giorni non è che possiamo avere due proposte, ce ne dobbiamo avere una. Diversamente andiamo in dissesto e se andiamo in dissesto sono quei veri comune. Non saranno attivati ammortizzatori sociali per i 34 lavoratori interessati, ma si ricorrerà ad iniziativa di insourcing delle attività manutentive. Lo confermano dati a Reno Power all'indomani della riunione con i sindacati sul futuro della centrale di Torre Valdalica Sud. I lavoratori per i quali si era prospettata l'ipotesi della cassa integrazione saranno quindi ricollocati nell'attività prima affidata a ditte terze integrandoli nei reparti operativi. Un risultato che soddisfa i sindacati, un passo importante, hanno spiegato un obiettivo a cui tendevamo. Nel frattempo, Tereno Power sta studiando alcune ipotesi progettuali da presentare al Comune e alla città per la possibile riqualificazione del quarto gruppo, fermo da 18 mesi. La tragedia sfiorata alla tensostruttura del mercato di piazza Regina Margherita, il dramma vissuto per decine di attività commerciali alcune delle quali costrette a procedere allo svuotamento della merce e alla messa in sicurezza degli arredi. Il maltempo di domenica ha rischiato di mettere in ginocchio anche il settore del commercio cittadino come ha denunciato l'esponente nazionale della Confcommercio Tullio Nunzi. A emergenza superata, ha spiegato, si può affermare che solo in pochissimi casi si sono registrati danni e ciò grazie alla fondamentale opera della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze armate. Va data un'immediata risposta a questa situazione di dissesto del territorio realizzando le adeguate soluzioni. Non c'è più tempo, il rischio è che i soldi non spesi oggi in prevenzione siano una parte infinitesimale di quanto dovremmo pagare per i danni di un'altra catastrofe. Grazie agli interventi preventivi, la quasi totalità degli edifici scolastici non ha subito danni. Esprimono soddisfazione il sindaco Tidei e l'assessore al patrimonio Alvaro Ballone all'indomani del violento nubifragio di domenica. Dai sopralluoghi effettuati sia nella serata di domenica che nella giornata di lunedì, la situazione è apparsa sotto controllo. L'unica scuola interessata è la materna di Via Terme di Traiano. Domani dovrebbero terminare i lavori. Anche a Civitavecchio, un utrito gruppo di ragazzi e ragazze provenienti dai vari istituti di istruzione della città hanno sfiorato il corteo per le vie del centro fino ad arrivare al piazzale Guglielmotti riproducendo nel loro piccolo lo sciopero generale che si è tenuto contemporaneamente a Roma. Niente tensione nei scontri, ma la voglia di dire è la propria. Attenzione che alla fine è arrivata, tanto che il sindaco Pietro Didè insieme al capo di gabinetto Patrizio De Felici e al delegato alle politiche giovanili Stefano Giannini ha voluto ricevere i giovani all'aula Pucci consentendo loro di svolgere l'assemblea in programma. Erano anni che il movimento studentesco viveva in una fase di dormiveglia dichiarato pubblicamente il primo cittadino. Voi avete diritto a una scuola pubblica che vi dia un'adeguata formazione perché il futuro siete voi. Nello stesso avviso De Felici e Giannini che nei loro interventi hanno ribadito quanto sia importante che gli studenti e l'amministrazione comunale impostino il loro rapporto sul dialogo. Presentata la nuova guida turistica multilingue di Civitavecchia ideata da Mario Camilletti ed Enrico Ciancarini della società storica Civitavecchise con la sponsorizzazione della Royal Bus. In tre lingue, italiano, inglese e spagnolo verranno indicati i monumenti più importanti di Civitavecchia. Quattro gli itinerari suggeriti, le interviste realizzate per noi da Gaia Saladini. Sentiamo. Una guida importante per la nostra città. Sì, dopo oltre 50 anni Civitavecchia finalmente avrà una guida perché l'unica guida valida fu quella edita dalla società Terme. Questa è la nuova, dalla società Grand Hotel delle Terme. Pensate, è una guida molto, molto vecchia. Oggi, su iniziativa, diciamo, di Mario Camilletti e Ciancarini di concerto con il Comune e con la sponsorizzazione Royal Bus abbiamo appunto deciso di dar vita a questa nuova guida scritta in tre lingue, italiano, spagnolo ed inglese che appunto serve per darla a tutti i croceristi, i turisti che vengono a Civitavecchia perché finora non si sapeva nulla e non c'era nessuna indicazione. Sono indicati almeno tre percorsi, più un quarto percorso da trekking perché sappiamo che molti croceristi praticano sport e ci sono anche delle curiosità sulla città di Civitavecchia. E' una cosa importante perché è importante? E' importante perché tutti quei croceristi che non sanno cosa fare vanno a Roma. Se un crocerista, prima invece di sbarcare a Civitavecchia o appena sbarcato a Civitavecchia, gli si offre questa guida e gli si indicano quelle che sono le bellezze archeologiche, storiche, architettoniche di questa città, probabilmente il crocerista che è sempre a ricerca di novità e di curiosità sarà tratto dalle bellezze di Civitavecchia che ovviamente non conosce, ma se invece noi gliele facciamo conoscere preventivamente o contemporaneamente è evidente che questo sarà un contributo a far rimanere qui i croceristi e non mandarle a Roma. Un crocerista che rimana ai 12 ore a Civitavecchia significa portare risorse in più per i commercianti, per i lavoratori e per i soccupati. Una guida per valorizzare soprattutto la storia di Civitavecchia? La storia di Civitavecchia che abbraccia due millenni e vastissima deve essere fatta conoscere sia ai nostri concittadini sia ai tanti turisti e croceristi che vengono in questa città e la guida ci offre proprio questa possibilità sia negli itinerari sia nelle piccole curiosità che abbiamo messo qua e là per arricchirla ecco questa è la presentazione della storia Civitavecchiese ai tanti come ha accennato prima Mario ci hanno contattato da Tokyo il giornale più diffuso nel mondo ci ha contattato per avere notizie sulla storia della nostra città e ora diamo spazio a un piccolo break di pubblicità a seguire ancora la nostra informazione